Tutti ce l'hanno, ed è incondizionato, è indirizzato al permettere di vivere. Non è una retribuzione né un pagamento, è un nuovo diritto civico, un diritto economico fondamentale, per facilitare libertà, flessibilità e sicurezza, per trovare la fiducia sociale di concederci l'un l'altro il diritto di essere. Un reddito per il semplice fatto di esserci, il reddito di cittadinanza. Di quanto si tratterebbe? All'incirca di 2.500 franchi al mese per ciascuno. E i bambini? I nostri bambini riceverebbero circa un terzo di questa cifra. Comunque, insomma, la prepensità prima è il finanziamento. E ho fatto una valutazione sommaria. Supponiamo che questo sussidio vada a 5 milioni di persone, inizio, a 30 mila franchi all'anno, sono 150 miliardi. Ora è una bella cifra. Io mi domando, 150 miliardi, con i tempi che corrono, con la difficoltà che abbiamo del Franco, e con i cantoni che, insomma, soffrono moltissimo sul piano finanziario, come sarebbe possibile finanziare un'opera simile? Sicuro, così non va. Soprattutto con i tempi che corrono. Ma quale sarebbe una possibile soluzione, se solo la si volesse? Ammettiamo che qualcuno guadagni 6 mila franchi al mese e che venga introdotto gradualmente, non dall'oggi al domani, un reddito di base incondizionato. Cosa accadrebbe? Ci sarebbero nuove trattative salariali? In questo caso, ognuno porterebbe già un reddito di base al suo posto di lavoro e probabilmente si abbasserebbero i costi salariali. Ma, alla fine, avremmo in tasca la stessa somma di prima. Il reddito di base resta alla persona in maniera incondizionata, indipendentemente da qualsiasi cambiamento. Una parte del reddito varia a seconda del tipo di lavoro, sia che si tratti di un reddito alto o di un reddito basso. Che percepisce un reddito piuttosto basso, di poco più alto del reddito di base, si prenderebbe la briga di alzarsi al mattino per ricevere poco di più? Una differenza così piccola potrebbe sviluppare una grande forza nel rimanere a letto. Che cosa dire però di quei lavori che nessuno vorrebbe fare? Se sono necessari, hanno anche un valore e dovrà venire loro attribuita la giusta ricompensa. A questo riguardo potremmo sviluppare maggiore attenzione per l'altro ed una nuova sensibilità sociale. Chi oggi ha troppo poco, con il reddito di base avrà di più. Il reddito di base comporta una riduzione dei costi del lavoro e quindi anche una riduzione dei costi di produzione. Di conseguenza calano i prezzi. Ai prezzi diminuiti si aggiunge un'imposta sui consumi più alta. Ciò significa che i prezzi per il consumatore, in media, rimangono gli stessi di oggi. L'imposta sui consumi trasferisce il denaro per i redditi di base. Sì, è chiaro che adesso è così complicato capire se può funzionare, stare in piedi, come, eccetera, eccetera. Però è vero che un rendito minimo garantito eviterebbe allo Stato delle enormi spese per dover gestire chi chiede aiuti allo Stato, eviterebbe, come si dice, questo atteggiamento un po' paternalista dello Stato. Ti trovo dei soldi, adesso devi attivarti, devi muoverti, devi riprendere in mano la tua vita, cercare un lavoro, eccetera. Ed è come, c'è un po' quest'idea che si venga al mondo per lavorare. Ecco, che assurda. Secondo me aiuterebbe perché avresti la libertà, ad esempio, di rifiutare dei lavori sottopagati. Io credo che il peggiore argomento di questa iniziativa è la paura, è la paura del cambiamento. Ma noi dobbiamo anche capire che la vita è fatta di un cambiamento costante, tutti i giorni, tutti i minuti della nostra vita. Dunque, gli acquisiti sociali come la VS, il secondo pilastro, la cassa malati, non sono per niente sicure per i prossimi 30, 40, 50 anni. Nessuno ce lo dice. E dunque dobbiamo già adesso immaginare qualcosa d'altro. La domanda è, questo reddito minimo garantito senza condizioni, al mio avviso cambia completamente il sistema di incentivi. E noi umani rispondiamo a sistemi di incentivi. E quale incentivo l'ha portata a studiare economia? Lo stimolo era fondamentale proprio a capire il mondo. Se i ragazzi possono avere il tempo di potersi relazionare meglio fra di loro, un domani anche nella società ci saranno persone meno frustrate perché avranno avuto il tempo di capire che cosa vogliono fare. Perché, dicevo, spesso il ragazzo nell'adolescenza ha bisogno di capire chi è, ha bisogno di tempo per incominciare a annusare quale possono essere gli ambienti che più si avvicinano a lui. Perciò sapere che c'è un minimo garantito che mi permette e soprattutto che permette anche alle nuove mamme di poter pensare alla maternità con una certa leggerezza, con una certa serenità forse, per meglio dire. Ripeto, mi darebbe una grande gioia questo. In breve, con il reddito di cittadinanza potremmo udire meno spesso le frasi che vengono pronunciate per la frustrazione di non essere nelle condizioni di realizzare quanto veramente sta a cuore. Potremmo cambiare il nostro concetto di lavoro e di prestazione. Migliorerebbero le relazioni, avremmo più tempo per trovare soluzioni ai conflitti e per quanto ogni giorno la vita ci propone di nuovo. Ne conseguirebbe il tracollo economico della Svizzera. O ci sarebbe più iniziativa, più energia, più motivazione per lavorare insieme e alla pari? Allora le autorità, per esempio un docente, potrebbero sedere in fondo all'aula e gli studenti gestire le lezioni da soli? Proviamo a chiedere ai ragazzi cosa ne pensano loro. Che desideri avete per il vostro futuro? Che non ci sia troppa gente che è superiore agli altri. che tutti fanno il lavoro che mi piace tanto fare. Anche se un corso per fare qualcosa costa troppo, però farlo colunque. Il primo impulso per me è stato capire meglio che cosa è la malattia e che cosa significa andare a guarire da una malattia. E qual è il significato di guarire? E cosa potrebbe venire reso possibile dal reddito di cittadinanza? Sarebbe una forma di prevenzione, forse. Che definirei fraterna, quindi per me l'essere fratello, quindi mettermi in un qualche modo accanto sullo stesso piano dell'altro è qualcosa di determinante. Determinante per la mia scelta di vita, ma dalla mia esperienza anche determinante per il cammino di queste persone con cui ho a che fare. E secondo me questo minimo esistenziale per tutti in fondo può attivare delle energie, delle energie che direi liberatorie all'interno della società. Più rifletto su questa idea e più ne parlo, più l'idea si arricchisce. Vedo le cose in un altro modo e l'idea cresce, fluisce nella mia vita. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori.